Il convegno è un'occasione importante per fare il punto sulla legislazione che offre degli strumenti per le imprese, fallibili e non, per la soluzione concordata della crisi d'impresa. Dalla riforma della legge fallimentare è nato un insieme normativo che può essere definito diritto negoziale delle crisi d'impresa, dove viene valorizzato l'aspetto dell'accordo tra creditori e debitori. Le stesse procedure fallimentari ormai sono evidentemente rivolte all'interesse dei creditori e possono essere risolte anche in quel caso con un concordato fallimentare. In quel caso, straordinario anche una legge che invece non è per nulla conosciuta o poco conosciuta, solo da pochi addetti lavori, ma sicuramente che non ha ancora avuto il seguito che merita, è la legge 3 del 2012 sulla composizione delle crisi da sovrindebitamento rivolte non solo agli imprenditori non fallibili, ma addirittura anche ai consumatori. In sostanza il convegno dell'Università Unicusano sulle competenze per il dialogo sociale, una parte importante di questo dialogo sociale è quello di chiudere conti con la crisi economica per poter ripartire. Lo strumento è quello di una soluzione concordata sulla debitoria.